In questo video faremo una panoramica delle parti principali di una fotocamera, come il corpo, l'obiettivo, il sensore, il mirino e il display LCD. Poi parleremo dei diversi tipi di obiettivi disponibili, tra cui grandangolari, teleobiettivi, macro e fisheye. Conoscere questi elementi vi aiuterà a migliorare le vostre competenze fotografiche. Benvenuta o benvenuto nel corso di fotografia di base 2024. Io sono Federico, federicocangiano.com. Questo canale è dedicato a tutorial, consigli e recensioni su fotografia, videomaking e tecnologie per migliorare il tuo lavoro creativo. Andiamo quindi a vedere quali sono le parti principali di una fotocamera. Il corpo della fotocamera è la struttura principale che ospita e protegge tutti i componenti essenziali della tua fotocamera. Immagina un corpo come la casa della fotocamera, dove ogni componente ha un suo specifico ruolo e spazio. Il corpo della fotocamera è generalmente realizzato con dei materiali robusti come magnesio, alluminio o policarborato. Questi materiali non solo conferiscono una resistenza e durabilità, ma rendono anche la fotocamera leggera e facile da maneggiare. Le fotocamere di fascia alta spesso utilizzano leghe di magnesio per una maggiore resistenza agli urti e all'intemperie. Sul corpo della fotocamera troverai vari comandi che ti permettono di controllare tutte le funzioni principali. Queste includono il pulsante per scattare la foto e accedere a funzioni. Poi ci sono anche dei pulsanti personalizzabili, in questo caso C1 e C2. Troviamo delle ghiere per regolare le modalità di scatto, automatico, manuale, a priorità di apertura o a priorità di tempi, eccetera, eccetera. E in alcuni modelli anche quelle per cambiare la velocità degli otturatori ed altri parametri. Abbiamo poi il touchscreen, alcuni modelli sono dodati di schermo touchscreen, che facilitano la navigazione dei menu e il controllo delle impostazioni con un semplice tocco. La disposizione intuitiva e accessibile di questi comandi, spesso essenziale per una rapida operatività, soprattutto in situazioni che richiedono velocità e precisione. La slitta o hot shoe è un attacco situato sulla parte superiore del corpo della fotocamera. Questo attacco è fondamentale per collegare accessori esterni come flash esterni, per migliorare l'illuminazione delle tue foto, quindi trigger wireless per il controllo remoto del flash esterno. Le fotocamere più moderne riescono a comunicare con microfoni o altri accessori, proprio attraverso la hot shoe, che sono delle hot shoe più avanzate. Sul lato delle fotocamere trovano spazio varie porte di connessione, tra cui USB per trasferire le immagini al computer, HDMI per collegare la fotocamera ad un monitor o a una TV, anche per fare lo streaming dei tuoi video, jack per microfono e cuffie per migliorare la qualità audio durante la registrazione video, e in modelli più avanzati, connettori per timecode, prese per internet e via discorrendo. Chiaramente, parlando di connettività, sicuramente avremo connessioni Bluetooth e Wi-Fi. Mirino e schermo LCD Il mirino e lo schermo LCD sono due componenti fondamentali di una fotocamera, che ti aiutano ad inquadrare e a comprendere e rivedere le tue immagini. Vediamo insieme quindi questi due strumenti in dettaglio. Mirino ottico Nelle fotocamere reflex digitali, il mirino ottico utilizza un sistema di specchi e un pentaprisma per riflettere la luce dall'obiettivo al tuo occhio. Ciò significa che vedi esattamente ciò che l'obiettivo vede in tempo reale, senza alcun ritardo o consumo di batteria. Però, nessun ritardo, visione chiara anche in piena luce e soprattutto di notte, non richiede alcuna batteria. Per contro, non mostra informazioni come l'istogramma o la profondità di campo, il mirino elettronico che troviamo nel mirrorless e uno schermo digitale che mostra un'immagine generata dal sensore della fotocamera. Ciò consente di vedere in tempo reale l'esposizione, il bilanciamento del bianco e altre impostazioni. Come pro abbiamo la visualizzazione delle informazioni di scatto, istogramma, livello di esposizione, le anteprime delle impostazioni applicate, possibilità di ingrandire per una messa a fuoco più precisa. Come contro troviamo il consumo di batteria più elevato, un possibile ritardo o lag dovuto al fatto che le immagini che stiamo guardando passano attraverso il processore. Questo lag comunque si tratta di millisecondi, in circa 5 millisecondi, che poi è stato migliorato con le tecnologie, con le macchine, diciamo, di fasce un po' più alte, pressoché, diciamo, impercettibile. Poi abbiamo una qualità dell'immagine che può variare in condizioni di scarsa illuminazione, tipo di notte, e non è che si vede proprio tanto bene. Il display LCD è lo schermo sul dorso della fotocamera che ti permette di rivedere le immagini, navigare nei menu e in molti casi utilizzare la modalità Live View per inquadrare le tue foto, quindi per scattare e vedere automaticamente dal dorso della fotocamera. Quindi abbiamo queste caratteristiche. Dopo aver scattato una foto, possiamo visualizzarla immediatamente sullo schermo LCD. Questo ti permette di controllare la composizione, l'esposizione e la messa a fuoco e di fare eventuali correzioni sul posto. La modalità Live View utilizza il sensore della fotocamera per mostrarti un'anteprima della scena sullo schermo LCD. Questa modalità è utile per la composizione precisa, specialmente quando la fotocamera è su un treppiede o in angolazioni difficili da raggiungere con il mirino, da guardare dentro il mirino, diciamo, quindi ti permette di vedere in tempo reale le modifiche apportate alle impostazioni di esposizione, bilanciamento del bianco e altri parametri. Alcuni schermi LCD sono articolati o inclinabili, permettendoci così di scattare d'angolazioni insolite. Questo è particolarmente utile per la fotografia macro, di paesaggio o di strada, dove potresti voler tenere la fotocamera sopra la testa o vicino al suolo o insomma lontano dal tuo occhio. Uno dei principali svantaggi dello schermo LCD è la visibilità in piena luce. Riflessi e abbagliamenti possono rendere difficile vedere chiaramente l'immagine sullo schermo. Alcune fotocamere offrono schermo con trattamento antiriflesso o possibilità di aumentare la luminosità per ovviare a questo problema. C'è da dire che alcune fotocamere non hanno il sensore di luminosità, quindi potrebbe succedere, con alcune macchine spesso succede, che quando sei in esterno aumenti la luminosità della macchina fotografica, quando vai in interno la devi riabbassare, altrimenti potresti rischiare di scattare delle foto sovraesposte. Ecco, in quei casi lì diciamo è un po' più che un problema c'è da ricordarsi questa cosa. Il mirino e lo schermo LCD sono strumenti complementari che ti aiutano a catturare la tua visione nel modo migliore. Il mirino, sia ottico che elettronico, offre una visione diretta e immediata della scena, mentre lo schermo LCD fornisce una versione versatile e dettagliata delle immagini e delle impostazioni. Utilizzare entrambi in modo efficace può migliorare notevolmente l'autoesperienza fotografica, permettendo di discattare con maggiore precisione e creatività. Batterie e schede di memoria All'interno del corpo della fotocamera ci sono il vano batteria e gli slot per le schede di memoria. Le batterie ricaricabili alimentano la fotocamera. La durata della batteria varia a seconda del modello e dell'uso che se ne fa. Le schede di memoria sono essenziali per la memorizzazione delle immagini e dei video. Le fotocamere moderne spesso supportano schede SD, SDHC, SDXC, schede CFexpress per velocità di scrittura e lettura più elevate e possono avere anche due slot per ospitare più schede di memoria. Il corpo della fotocamera è molto più di un semplice contenitore per i componenti elettronici. È una combinazione di design ergonomico, materiali robusti e funzionalità avanzate che insieme ti permettono di catturare immagini straordinarie. Conoscere e comprendere il corpo della tua fotocamera ti permetterà di utilizzarla al meglio, migliorando sia la tua esperienza fotografica che la qualità delle tue foto. Un consiglio che mi sento di darti è quello che, una volta che hai scelto quale modello di macchina fotografica comprare, di andarlo a provare in un negozio fisico, in modo tale da poterlo toccare e vedere se c'è quel feeling tra te e il corpo macchina che si presume o che si spera utilizzerai per i prossimi 4, 5, 7, 8, ma magari anche 10 anni. Ricorda che una buona comprensione della tua attrezzatura è il primo passo per diventare un fotografo migliore. Obiettivi della fotocamera. Gli obiettivi sono una delle componenti più importanti della tua fotocamera. Sono gli strumenti che dirigono la luce verso il sensore o la pellicola, determinando in gran parte la qualità e il carattere delle tue immagini. Esistono molti tipi di obiettivi, ciascuno con caratteristiche uniche che li rendono adatti a diverse situazioni fotografiche. Una lente fotografica è composta da diversi elementi che lavorano insieme per formare e proiettare un'immagine nitida sul sensore o sulla pellicola della tua fotocamera. Ogni lente può essere composta da più elementi ottici, ciascuno progettato per correggere aberrazioni e ottimizzare la qualità dell'immagine. Il diaframma regola la quantità di luce che entra nella lente può essere aperto o chiuso per modificare la profondità di campo e controllare l'esposizione. Può essere controllato attraverso una ghiera posta sull'ottica stessa o attraverso il menu e le ghiere presenti sulla nostra fotocamera. L'attacco dell'ottica permette di collegare l'obiettivo al corpo della fotocamera. Ogni marchio ha sviluppato il proprio standard di attacco, come il Canon RF, il Nikon F o il Sony E per esempio, che determinano la compatibilità tra le ottiche e la fotocamera. L'attacco non è solo un meccanismo fisico, ma integra anche le connessioni elettroniche che consentono di trasmettere informazioni tra l'obiettivo e la fotocamera, come il controllo dell'autofocus e dell'apertura. Oltre agli obiettivi prodotti dalle case madri, esistono anche numerosi produttori di lenti di terze parti, come Sigma, Tamron o Tokina per esempio, che creano ottiche compatibili con diversi sistemi di attacco. Questi produttori realizzano obiettivi con attacchi specifici per ciascun brand, consentendo ai fotografi di utilizzare le stesse ottiche su fotocamere di marche diverse, purché l'attacco sia compatibile però. Questo amplia notevolmente le opzioni a disposizione dei fotografi, che possono scegliere tra un numero maggiore di ottiche senza essere limitati ai soli obiettivi del marchio della propria fotocamera, perché tante volte possono essere costosi, veramente costosi, quindi ci si può rivolgere ad un altro marchio e trovare la stessa ottica, magari rinunciando un po' di qualità, però ad un prezzo molto molto minore. L'adattabilità degli attacchi è spesso resa possibile attraverso adattatori, che permettono di montare obiettivi con un attacco differente sulla propria fotocamera. Tuttavia, in questi casi, è importante tenere conto della possibile perdita di alcune funzionalità, come ad esempio l'autofocus automatico. Campo di ripresa e lunghezza focale. Il campo di ripresa è l'area dell'immagine che una lente è in grado di catturare. Dipende dalla lunghezza focale e dall'ampiezza dell'angolo di vista. La lunghezza focale, misurata in millimetri, indica la distanza tra il piano focale, il sensore o la pellicola, e il punto di convergenza dei raggi di luce all'interno della lente. Le lunghezze focali più lunghe, ad esempio un 50 mm o un 85 mm, tendono ad ingrandire l'oggetto e a comprimere il campo visivo, ideali per i ritratti e fotografia di dettaglio. Le lunghezze focali più corte, ad esempio un 24 mm o un 35 mm, offrono un angolo di vista più ampio, perfetto per paesaggi e fotografie di architettura. Apertura e profondità di campo. L'apertura, misurata in F numeri, F1.4, F2.8, eccetera, eccetera, controlla la qualità di luce che passa attraverso la lente. Una grande apertura, piccolo numero F, permette più luce e produce sfondi più sfocati. Il classico effetto bokeh, ideale per isolare i soggetti in primo piano. Una piccola apertura, grande numero F, riduce la quantità di luce, ma aumenta la profondità di campo, mantenendo nitidi sia i soggetti vicini che lontani. Profondità di campo. La profondità di campo rappresenta la zona di nititezza dell'immagine. Una profondità di campo ridotta crea sfondi sfocati, mentre una profondità di campo estesa mantiene nitidi più elementi dell'immagine. Vediamo un attimo quali sono i tipi di ottiche fotografiche. Abbiamo gli obiettivi gradangolari, che offrono appunto un campo visivo esteso e sono ideali per paesaggi, architettura e fotografia in spazi ristretti. Abbiamo gli obiettivi standard, solitamente compresi tra i 35 mm, i 75-85 mm. Sono versatili per molte situazioni fotografiche, inclusi ritratti e foto da street. C'è da dire che il 35 mm è paragonato all'occhio umano, il campo di visualizzazione del 35 mm. Esistono poi gli obiettivi teleobiettivi, che superano gli 85 mm e sono utilizzate per avvicinare i soggetti distanti, come nella fotografia naturalistica o sportiva. Obiettivi macro, progettati per catturare dettagli estremamente ravvicinati, come nei fiori o degli insetti. Abbiamo poi gli obiettivi zoom, che offrono una gamma di lunghezza focale variabile, permettendo la flessibilità senza dover cambiare l'obiettivo fisicamente. Capire l'ottica fotografica è cruciale per potenziare la propria creatività e ottenere i risultati desiderati nelle immagini. Ogni tipo di lente offre caratteristiche uniche, che possono essere sfruttate per esprimere un punto di vista artistico o tecnico. Esplorare e sperimentare con diverse ottiche permette di scoprire come ogni scelta influisce sul risultato finale della fotografia. Il sensore della fotocamera. Il sensore è uno dei componenti più cruciali di una fotocamera digitale. È responsabile della cattura della luce e della trasformazione di quest'ultima in un'immagine digitale. Capire come funziona il sensore ti aiuterà poi a fare delle scelte consapevoli quando acquisti una fotocamera e a sfruttare a meglio le sue peculiarità. Vediamo quindi quali sono i tipi di sensori. I due tipi di sensori principali sono il CCD e il CMOS. Oggi i sensori CMOS sono più comuni nelle fotocamere digitali grazie alla loro efficienza energetica e alla capacità di integrare più funzioni in un singolo chip. Come funziona un sensore? Il sensore è composto da milioni di minuscoli elementi fotosensibili chiamati pixel. Ogni pixel raccoglie dei fotoni, delle particelle di luce e li converte in un segnale elettrico. La quantità di fotoni catturati da ciascun pixel determina l'intensità della luce registrata che viene poi convertita in valori digitali per formare l'immagine. La dimensione del sensore è un fattore chiave che influisce sulla qualità dell'immagine. Esistono vari formati di sensori, tra cui il full frame. Questo sensore ha le stessiche dimensioni di un fotogramma da pellicola da 35 mm. Offre una qualità di immagine superiore, un maggiore controllo sulla profondità di campo e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. L'APS-C più piccolo del full frame, circa 22x15 mm, ma comunque molto popolare, soprattutto nelle fotocamere reflex digitali e mirrorless. Offre un buon equilibrio tra qualità di immagine e costo. Micro 4 terzi. Ancora più piccolo, circa 17x13 mm, è utilizzato principalmente nelle fotocamere mirrorless. Compatto e leggero e ideale per le fotografie di viaggio. La risoluzione. La risoluzione del sensore, misurata in megapixel, indica quanti milioni di pixel sono presenti su un sensore. Maggiore il numero di megapixel, maggiore il dettaglio che la fotocamera può catturare. Tuttavia, più megapixel non sempre significano una migliore qualità di immagine, soprattutto se il sensore è piccolo. Un sensore con più megapixel su una superficie ridotta può introdurre rumore digitale. Sensibilità ISO. La sensibilità ISO del sensore misura la sua capacità di catturare immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Un valore ISO più alto aumenta la sensibilità del sensore alla luce, permettendo di scattare in ambienti più bui. Tuttavia, aumentando gli ISO, si può introdurre del rumore digitale, che si manifesta come granulosità nell'immagine. La gamma dinamica è la capacità del sensore di catturare dettagli nelle aree più luminose o più scure delle immagini. Una gamma dinamica ampia significa che il sensore può gestire meglio le scene con un alto contrasto, preservando dettagli sia nelle ombre sia nelle alte luci. Se vuoi davvero capire come controllare ogni aspetto della luce e creare scatti incredibili, allora non puoi perderti il video successivo, dove parleremo dell'esposizione e quindi del famoso triangolo dell'esposizione. Metti un like, lascia un commento e condividi questo video con chi potrebbe essere interessato all'argomento. Ci vediamo nel prossimo video e nel frattempo, pace! Ciao!